Promuovere la cultura cinematografica e audiovisiva, la conoscenza del territorio e del patrimonio culturale regionale presso le nuove generazioni e le scuole. È l'obiettivo del concorso a scuola di cinema raccontando un monumento, realizzato dalla Direzione Generale Politiche Culturali della Regione Campania in collaborazione con Film Commission Campania, nell'ambito delle azioni previste dalla legge regionale Cinema Campania. Le scuole finaliste del concorso sono state premiate questa mattina dal Presidente per il Turismo e Beni Culturali, Patrizia Boldoni, e dal Presidente di Film Commission Campania, Titta Fiore. Sono intervenuti inoltre gli attori Davide De Venuto, Miriam Candurro e Lorenzo Sarcinelli del cast di Un posto al sole ed Enzo Esal di Made in Sud. Il linguaggio del cinema, il linguaggio delle immagini, le specifiche che sono tantissime di varie professionalità che implicano, che sono coinvolte nella realizzazione di un video, sono fondamentali in questo momento, in questa città, in questa regione per lo sviluppo, per la crescita. Quindi sì, la deviazione sul percorso ci sarà sempre, dell'uso delle immagini, però in questo momento è importantissimo per i ragazzi napoletani imparare ad usare e a conoscere il mezzo. Una bellissima manifestazione, è bello, sensibilizzare i giovani ad affacciarsi a questa arte, soprattutto perché così non faranno un lavoro. Eh, so, un lavoro, come no? Questo è un lavoro che va preso come lavoro? No, dico, uno va a scuola, a studio, se non trova niente si mette a fare la tour. Non è che funziona proprio così. Io così ho fatto. Vabbè, sono fumato proprio intensamente apposito, tanto voglio fare la tour.